Io non so sparare. Non ho mai sparato un colpo in vita mia. E non so guidare la macchina. Per favore, dica alla corte perché avevate le armi. Veramente, avevamo pensato di buttarle via. Per questo ho levato tutti da dentro al cassette, tutte le cartucce. Ma, signor Sacco, non le serviva una pistola di notte, quando era di guardia nella fabbrica di Kelly? Sì, ma aveva pensato di buttarle via lo stesso, era troppo pericoloso. E perché non ha fatto domanda per il porto d'armi? Lei crede che in questo paese per un anarchico è facile avere un permesso d'arme? Come in qualsiasi paese, signor Sacco. Sì, in qualsiasi paese. Lei non ama questo paese, vero, signor Sacco? Perché dice questo? Io amo questo paese. E lo amava anche nel maggio del 1917? Non è tanto facile a spiegare così. Sì, hai capito la domanda? Vuole l'interprete? No, no, non serve. Capisco lo stesso. Allora risponda con un sì o con un no. Sì. Lei amava questo paese. Ma quando si è trattato di servirlo come soldato, non è fuggito in Messico? Mi lasci spiegare. Risponda sì o no. È andato in Messico per evitare di fare il soldato per questo paese che ama? Ma io sono un operaio. È andato o non è andato in Messico nel maggio del 1917? Sì, ci sono andato. Finalmente. Ce ne vuole per avere una risposta da lei? Perché ci è andato? Perché sono un operaio anarchico. Bravo Sacco! Tito! E che significa? Significa che gli anarchici pensano ad un mondo senza frontiere. Capisco. Noi siamo obiettori di coscienza. E lei lo ama il governo degli Stati Uniti?